Complimento. Allora, un'esotica, con un po', con un gatto. Quindi, pensiamo, come abbiamo pensato, un premio, a due giorni. Chi ha capito? Il taglio, eccoci a me, è tradizionale, come con un cinema, bellissimo. E' un cioccolato molto intenso, quasi simile. E' questo perché? Perché non ce l'ha con me. Un altro tag, bellissimo, con questo colore, non lo perdono. E poi, sacro di che mani, il mondo, le ragazze, le guanti. Signore, un grande applauso perché è stato faticoso fare tutto.